salve a tutti ragazzi benvenuti in questa nuova puntata della shalakwaft sono sempre alex shalak ragazzi e benvenuti su minecraft allora mi è stato detto nei commenti per quanto riguarda i miei bellissimi livellozzi di fare un enchanting ah si perché ho mancato la n vabbè ne scriviamo table direttamente perché dovrebbe esserci questa e ce ne dovrebbe essere un'altra advanced enchanting table mazza mica costa poco allora l'ossidiana si può fare per cui possiamo fare il tutto che dovrebbe essere quella che appunto ci dà la possibilità di scegliere gli enchanting per cui andiamo giù entriamo qui ci svuotiamo leggermente che abbiamo un bel po di roba già buttiamo un po di roba perfetto allora prendiamo due bei diamanti facciamo così abbiamo bisogno dell'ossidiana ossidiana dove ho messo la nostra minion stone dovrebbe essere di la non ti bloccare grazie molto gentile prendiamo questa prendiamo questa lì c'è un'ossidiana che non ci fa schifo non ci fa schifo la possiamo utilizzare abbiamo un ascia certo che abbiamo un ascia andiamo di la veloci veloci e andiamoci a prendere un po di legna tutta per noi allora ragazzi spero che l'idea del contest vi piaccia spero siate in tanti a partecipare anche se magari volete partecipare con qualche amico invitatelo così magari mi becco qualche iscritto in più non è male l'idea ah ci bruciamo questa bella birce che io odio alla pazzia perfetto ho del spazio si tu cosa sei legno normale lascia stare io voglio distruggere la birce comunque fatemi sapere nei commenti appunto cosa ne pensate se il contest avete qualcosa in particolare da dire ci saranno parecchie sfide durante il contest per cui sotto a chi tocca allora grazie molto gentile minion stone e ora abbiamo anche l'ossidiana cosa ci manca cosa ci manca cosa ci manca non lo ricordo cosa bisognava un libro un libro abbiamo dei libri abbiamo una piuma qui abbiamo della pelle per cui ci dovrebbe servire ci dovrebbe servire vediamo un po vediamo un po abbiamo bisogno di delle canne da zucchero che qui non vedo però vedo uno di questi per cui per il momento ce lo facciamo bastire facciamo uno due tre ah si perché ci hanno bisogno di tre fogli e una pelle e non tre pelli e un foglio andiamo a prendere le canne da da zucchero da zucchero si non altre canne ragazzi non fatevi le canne mi raccomando mai farsi le canne questa è la prima regola di uno che si fa le canne perfetto un po' di canne per me molto gentili quante ne abbiamo nove perfetto riusciamo a fare tre libri massi tanto uno ci serve per fare quella avanzata da quanto c'è come quella della della come si chiama della exit non dovremmo avere problemi per i libri perché tanto basta ingiantarla poco alla volta anche perché sicuramente per il momento non ho tutte queste canne da zucchero lì c'è un creeper nascosto si era nascosto lo stronzo perfetto allora entriamo dentro le nostre belle canne da zucchero facciamo uno due tre e ci viene l'enchant in table perfetto ha dato il primo errore ragazzi tra poco crasha ma da dove cazzo sei uscito ma quel creeper da dove cazzo è uscito non esplodere perché mi incacchio perfetto ritorniamo qui cosa ci serviva andiamo a vedere dove è eccola qui aspettate ragazzi io voglio controllare prima se non è direttamente questa qui che alla fine che creiamo qualcosa di sbagliato di solito nei commenti non mi avete mai detto cazzate ecco sta per bloccarsi ragazzi sta per bloccarsi ragazzi revio un attimo la ftb a fra poco eccoci noi qui ragazzi allora ci servono degli squid per cui cioè non è che ci servono degli squid ci serve del nero anche se abbiamo la mini o stone alla fine per cui io faccio così butto che ne so che posso buttare la gun power che non ci serve facciamo così facciamo così andiamo con questa qui qui ci viene il light poi il magenta l'arancione ed ecco il nero quello che ci serve a noi la gun power la buttiamo perfetto torniamo a casa e andiamo a fare il libricino che ci interessa il libro ce l'abbiamo abbiamo il tutto dobbiamo mangiare per cui facciamo la pappa bravissimi bravissimi qui c'è un una pallina di esperienza e ce la prendiamo poi allora ci serve questo non ho una piuma mi serve una piuma mettiamo queste ossa qui dentro e ci prendiamo una piuma voilà andiamo qui e facciamo piuma più ink sack più libro 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 dovrebbe darci quel libro lì perfetto poi aha oro ce l'abbiamo dei blades dei blades ditemi di si ditemi che abbiamo dei blades si perfetto ce l'abbiamo abbiamo anche le ender pearl poi andiamo qui facciamo così così e così perfetto facciamo uno due tre e quattro uno due enchanting table centrale e cos'altro il libro particolare eccolo qui ragazzi se hai sbagliato vi prendo a calci ok perfetto funziona allora se io adesso prendo questo piccone no e lo voglio met non lo voglio mettere ragazzi non sono compatibili purtroppo no infatti la tinker construction e questa qui non sono compatibili mi dispiace abbiamo fatto l'enchanting party table per nulla cioè almeno per il momento non ci serve un cacchio però potrà servirci un giorno perfetto andiamo a vedere invece sul libro dell'enchanting cioè non dell'enchanting ma della tinker construction appunto cosa ci dice vediamo un po' dobbiamo andare nelle modifiche allora dove cacchio sono le modifiche eccole qui a noi ci interessa fortune questo lo ripara questo utilizza il staccio questo che idea mi ne fa aggiunge fortuna perfetto per cui i lapislazzoli abbiamo i lapislazzoli non credo ne dubito altamente proprio ah no li abbiamo li abbiamo perfetto per cui andiamo nell'altra casina perfetto che nessuno ci veda mi raccomando perfetto ciao ragno allora qui perfetto gli mettiamo i lapislazzoli il nostro bel piccon house perfetto quanti ne possiamo mettere 2 su 45 cioè posso metterne fino a 450 look dovrebbe essere fortuna ragazzi se non erro ma va ce li mettiamo tutti ma chi se ne frega perfetto fatemi sapere se è giusto quello che sto dicendo se sto dicendo tutte cazzate esperienza per noi magari ci facciamo una bella spadozza di diamante oppure un'armatura tutta inciantata e ce la ciappiamo questo lo mettiamo qui perfetto io andrei a nanna per cui faccio più y point qua sopra devo mettere un portale cioè non un portale ma un un y point qui sopra in modo che possiamo andare a dormire quando ci pare mannaccia che palle devo ammazzare un ragnetto eccolo qui crepa perfetto ovviamente mi piacciono particolarmente questi questi utensili blu sono abbastanza fighi anche perchè hanno un bel po' di utilità andiamo io direi di uccidere questo creeper prima cosa perfetto perfetto allora che ne pensate se ce ne andiamo ad esplorare un po' le caverne mmm cretino di uno zombie mi ha dato un'altra testa di zombo però dovrei svuotarmi prima di andare in caverna visto che adesso dovremmo avere fortune non ci dispiacerà cercare la roba cercare un po' di robaccia per cui andiamo qui un attimo nella cesta e facciamo 1 2 3 4 5 6 7 tutti quanti tutti quanti tutti quanti tutti quanti vogliono fare il gesto alleluia ah gli aristogatti che ricordi facciamo così prendiamo questo questo e voilà un po' di torce per me allora possiamo un attimo questa qui posiamo questa qui e ci prendiamo questa qua in cui dovrebbero esserci roba tipo picconi asce cazzo ah ma c'è un elmetto interessante questo ce lo mettiamo subito almeno abbiamo un po' di protezione in più e farei così ypoint canyon 1 sì sì perfetto andrei qui giù sinceramente aha qui sotto c'è l'acqua perfetto e andiamo un po' a vedere che cosa troviamo in giro le torce non le ho messe lì perfetto e voilà ha dato il primo errore ragazzi è preoccupante come cosa quando dà il primo errore è veramente preoccupante cominciamo a prenderci secondo errore terzo errore adesso si blocca l'avevo detto io eccoci di nuovo qui ragazzi scusate ma mi sono accorto che non stavo registrando difatti ho preso qualcosa in giro e non ci avevo fatto caso che non registravo cioè non ci avevo fatto caso sinceramente allora ci prendiamo questa tin la caverna è molto interessante poi vediamo un po' c'è qualcosa altro di interessante un po' di ferro e noi ce lo prendiamo perché può sempre servire come appunto serviva il copper l'altro giorno adesso ci prendiamo tutto quello che ci capita a tiro il contest sarà su un server o stato per cui non preoccupatevi di nulla poi che cos'altro vi dovevo dire l'uranio non ce ne può fregare di meno ah poi 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 che cos'altro vi posso dire attraverso il contest che oltre vabbè alla valutazione che ci sarà sui mi piace ci sarà anche una mia valutazione ci sarà una valutazione diciamo della giuria più una una un creeper più ci sarà un creeper ci sarà una valutazione mia per cui dovete colpire me più che la giuria per cui vedete un po' vediamo un po' che cosa siete capaci di fare per quanto riguarda il contest può partecipare chiunque non solo i miei iscritti per cui se volete aggiungere qualcun altro mi raccomando poi si deve iscrivere ah ah se no io che ci guadagno ah ah scusate più iscritti voglio iscritti voglio gli iscritti datemi gli iscritti ma mori qui c'è tanto coal e noi ce lo prendiamo per cui piano piano tomitomi come diceva totò tomotomo com'era tomotomo calmo calmo e tomotomo mi avvicinavo al non mi ricordo cosa comunque diceva tomotomo non ricordo assolutamente che cosa cavolo diceva però se lo diceva totò è interessante ciao tizio vieni qua vieni noi fortunatamente abbiamo un'arma che è potente un piccone che è veloce per cui fortunatamente non è brutto stare in caverna ah ah qui ci sono dei lapislazoli che ci possono servire per questo qui per il piccone ma non lo so se è utile sta cosa però noi ci sappiamo assolutamente tutto la redstone che bella la redstone a me piace la redstone ragazzi a chi piace la redstone ma ciao creepy perché non crepi creepy perfetto qui c'è altra redstone mica ci sono dei diamanti cosa è quello laggiù non mi direi che è diamante che se è diamante io sono contento ma non credo proprio no infatti non è diamante fa un culo sembravi diamante mi hai deluso profondamente ci prendiamo questa redstone qui sopra visto che ci troviamo non andare a scatti molto gentilmente perfetto et voilà redstone tutta a noi qualche blocchettino di ferro che non ci dispiace cristalli della towncraft ragazzi le api mi avete già risposto e non le volete assolutamente la towncraft che cosa ne pensate ci sarà uno spazio per la towncraft sulla shalla craft fatemelo sapere nei commentini allora di qua abbiamo visto tutto il coal può rimanere qui sopra andiamo dall'altra parte mozza mica pochi mob allora facciamo così mi sa che sta per crashare tutto però quelli sono dettagli ragazzi piccoli dettagli già sono crashati i suoni ed è crashato pure minecraft eccoci di nuovo qua ragazzi pronti ad ammazzare tutti gli stronzi possibili immaginabili voilà creeper che esplodono perfetto allora vediamo un po' una bella lucina ma che cacchio oddio quella ha un'anatra in testa quello aveva un'anatra in testa l'aveva l'aveva purtroppo ragazzi non ce l'ha più e non siamo riusciti a prendercela purtroppo qui sotto c'è uno scheletro qui ci sono delle forgem diamanti niente c'è dell'oro che non è bad non è bad ragazzi come al solito ci vediamo nella prossima puntata speriamo di non morire speriamo di non morire non sono morto vaffanculo ci vediamo nella prossima puntata come al solito io sono sempre Alex Shalla lasciate un bel mi piace qui sotto un commentino iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ci vediamo nella prossima puntata che appunto sarà della exit non siamo tornati male da questo viaggetto dai qualcosina l'abbiamo preso anzi vorrei fare una cosa visto che ci siamo prima che crashi tutto e si spenga Minecraft e non si riascenda mai più andiamo un attimo qui dentro non abbiamo una cazzo di crafting table non volevo il ferro ma una crafting table grazie facciamo così mettiamo una crafting table per terra sta per crashare yeah cosa mi serviva ho dimenticato ah si volevo fare un blocco di lapislazzoli perfetto se adesso vado qui e gli dico che voglio aggiungere un blocco di lapislazzolo ci darà la benché pallida idea di controlliamo togliamolo da qui lo mettiamo qui adesso ci abbiamo 16 ah va bene non cambia assolutamente niente se lo metto sotto non cambia assolutamente niente perfetto aumenta forse non ho idea come funziona ragazzi forse è più facile metterlo in quella maniera per cui ci vediamo nella prossima puntata io sono Alex Sciala ragazzi ciao a tutti ciao a tutti